5 donne di una stessa famiglia sono state tragicamente investite uccise in pennsylvania lungo l'interstate 81 dopo un incidente con il loro mini vantre persone a bordo si trovavano sulla strada quando una seconda auto con altre due donne si è fermata per soccorrere in breve un auto articolato ha travolto il minivan uccidendo due donne all'interno le altre tre cercando di aiutare sono state anch'esse colpite dal camion l'incidente si è verificato martedì pomeriggio scott township le autorità locali hanno confermato l'accaduto intervenendo sul luogo grazie a tutti